Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Loredana Lecciso ha finalmente svelato i dettagli del suo rapporto con Albano e Romina Power in un'intervista esclusiva rilasciata oggi. La showgirl ha raccontato senza filtri la sua storia d'amore con Albano, i litigi e le gioie condivise, ma anche la presenza ingombrante dell'ex moglie Romina Power e dei figli avuti da lei. La famiglia allargata della Lecciso e Albano è stata al centro dell'attenzione, con la showgirl che ha ammesso che a volte il rapporto è stato troppo affollato e che avrebbe dovuto porre dei limiti. Vivere all'interno di famiglie allargate richiede un impegno costante e la Lecciso ha sottolineato l'importanza di preservare l'equilibrio e la solidità dei legami familiari. La proposta di matrimonio da parte di Albano risale al 2013, ma il matrimonio non si è mai concretizzato e ora la Lecciso ritiene che sia troppo tardi. Nonostante ciò, l'amore tra i due è ancora forte e la gelosia non manca, con la showgirl che ammette di essere la più possessiva dei due. La Lecciso ha anche rivelato un suo rimpianto, ossia non essersi goduta abbastanza ai suoi figli, in particolare Brigitta. Tuttavia la showgirl è consapevole dell'importanza di preservare i legami tra i fratelli, che saranno una risorsa importante per loro nel futuro. In conclusione, la storia tra Loredana Lecciso e Albano continua a suscitare interesse e curiosità, con la showgirl che ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare la verità.